Nel 2014, quindi qualche anno fa. Del team manca appunto Laura De Stefani che ha deciso di prendere strade diverse. Diciamo che è nata da una necessità. Durante i laboratori didattici la nostra necessità era quella di dare ai bambini appunto qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile. Quindi siamo partiti appunto da una semplice tavola, ecco disegno, dove si spiegava in maniera molto sintetica cosa fa un archeologo, chi è un archeologo, come scava e soprattutto quali strumenti. E da lì è nato questo prototipo. Poi, dopo una serie di incontri fortuiti, mi ricordo ancora che a Trieste, sempre durante un meeting, mi pare, Trieste diventa in gioco, ho incontrato Laura e da lì in poi è nato il progetto Jack & Matrix. Abbiamo cominciato da questo qui, che è stato ricopertinato quest'anno da Viola e poi ne abbiamo accumulati, realizzati circa 16, dal 2014 sino ad oggi. L'anno passato, sì, ho il passaggio da Laura, ho avuto la fortuna appunto di incontrare Federico Gardin dall'Accademia del Fumetto di Padova e da lì abbiamo iniziato una nuova collaborazione, ad un restyling del personaggio, così come lo vedete anche dalle pagine di Facebook. E poi ho avuto la fortuna, l'anno scorso, durante Luca Comics, di incontrare la brava Viola Vittorini della Scuola Romana di Fumetto. Giusto, Viola? Sì, giustissimo, giustissimo, siamo incontrati a Luca Comics perché abbiamo partecipato entrambi ad un contest e niente, siamo incontrati e abbiamo iniziato anche a pubblicare nuovamente poi vedere le immagini di Jack & Matrix, ne ti metti, io lo sto per dargli più di più. Allora, questa incontratura, diciamo... In generale va benissimo, io vorrei un po' parlare delle persone che stanno dietro al fumetto, quindi in questo caso di Mirko e di Viola, prima di adentrarci nelle storie di Jack & Matrix. Diciamo, a parte come siete arrivati a realizzare questo progetto, c'è un po' accennato, però io vorrei sapere come Mirko si è avvicinato proprio al fumetto, quindi... Il fumetto è come Viola, invece, si è attratta completamente dall'archeologia, questi due mondi che si sono uniti da un lato e dall'altro, a parte Viola. Allora, com... Comincio io? Sì, allora... Com'è? Com'è? Vai, vai! Allora, avvicinato al fumetto, Allora, all'inizio avevo optato per l'utilizzo della telecamera, dico la sincera verità, e quindi avevo il pallino appunto di realizzare dei documentari, ecco. Poi, da lì in poi, ho cambiato di fatto un mezzo, anche per questione di carattere economico, e di utilizzare qualcosa che fosse il più fruibile possibile da parte dei più piccoli, dalle classiche nuove generazioni, ecco. E da lì ho ripreso in mano uno dei vecchi pallini, anche mio, quando ero piccolo, ecco, di realizzare un fumetto. Come ti ho detto prima, è stata una questione di necessità e soprattutto di dare il messaggio che intendo portare, appunto, facendo archeologia. Che deve essere un messaggio, l'ho portata di tutti, ecco. Da archeologo, almeno durante il tuo percorso di studi, ma anche lavorativo, prima di Jack and Matrix, ti aspettavi di riuscire a comunicare l'archeologia in questo modo? Cioè, pensavi che un giorno avresti fatto questo? Non l'avrei pensato, non l'avrei pensato. E soprattutto che Jack and Matrix, lavorando costantemente dietro, ecco, stia acquisendo, appunto, certa familiarità, ecco. E soprattutto risposta da parte degli enti a cui noi ci rivolgiamo, musei, comuni, enti privati, ecco. E questa cosa qui mi riempie d'orgoglio. E soprattutto grazie all'abilità da parte dei disegnatori, quindi di Viola e Federico, che mi sopportano e dico, dimmi. Dico, io vorrei parlare al balzo per rimandare la domanda che ti ho fatto prima a Viola. Come mai da fumettista, vabbè, c'è stato un incontro, però come mai poi si è buttata quasi totalmente nell'archeologia questo? E se le piace, soprattutto. Comunque, grazie alla passione di Mirko, che in qualche modo credo che ci abbia trasmesso un po' a tutti. E, cioè, il merito è direttamente il suo, comunque. Per lo poco mi assicuro. Poi, comunque, entrando nel mondo dell'archeologia, è normale che le persone si appassionino e riscoprono anche un qualcosa di antico come interessante, in quanto è una concezione un po' persa. Ok. Quindi, diciamo che è molto nuova come situazione. Dovrebbe essere sicuramente riaffrontata. Ok. E ti senti di avere, diciamo, penso di sì, ovviamente, imparato qualcosa, cioè di essere cresciuta affrontando un mondo del fumetto che è ancora molto piccolo, diciamo, quello del mondo archeologico-culturale. Eh, sì, certo. C'è stata sicuramente una crescita a livello sia di cultura, in quanto comunque apprendo sempre cose nuove, ma anche a livello di disegno, anche per quanto mi riguarda, in quanto io ho studiato disegno e avendo la possibilità di fare tavole e illustrazioni per Mirko e per Jeff Matrix Comics, ho cominciato a migliorare il mio livello. Quindi è stato un crescere continuo. Ok, ok. Mirko, vuoi aggiungere qualcosa a questo prima? Beh, confermo che sta crescendo mese dopo mese, ecco. E sta diventando sempre più brava. Come sempre più bravo sta diventando anche Federico. Quindi non posso soltanto di ringraziarlo, ecco. Ringraziamo e lo salutiamo, ovviamente. E lo salutiamo, ecco. Come si suol dire, dai grandi incontri nascono grandi cose. Jack Matrix lo è. Io ovviamente, prima di fare questa chiacchierata, mi sono un po' informato con i nostri autori, in realtà, vabbè, non ci sono, e ovviamente ho spulciato il vostro sito e ho trovato una frase bellissima, che adesso vi riporto. Cioè, se un solo ragazzo si ricorderà in età adulta di un solo aspetto del lavoro svolto, grazie ad un fumetto, l'obiettivo questo è considerato raggiunto. E' ancora questa la vostra missione, il vostro obiettivo? Assolutamente sì, a mio parere. Basta cambiare una sola persona che cambia il mondo, ecco. Come si suol dire. E se questo fumetto riuscirà a conquistare un solo bambino, sono più che contento. Spero anche un po' di più di uno, ecco. È ovvio. Però sai, credo che un fumetto come Jack and the Matrix, sì, beh, hai parlato di bambini, però possa essere rivolto a chiunque non frequenti il mondo dell'archeologia. Quello sicuramente può dare degli input riguardante a determinati contesti storici e archeologici che vengono trattati all'interno del fumetto in un modo molto meno pesante, ecco, da essere fruita di una storia archeologica appunto di un sito. Che la particolarità di fatto di Jack and Matrix è sì di creare, di parlare di un sito archeologico della sua storia, ma anche quella di creare un collegamento tra i diversi siti e realizzare una storia fatta appunto di un antagonista, di un protagonista e di un antagonista. È una storia che si sviluppa in work in progress. Perfetto, e non è facile, credo, questa domanda la faccio a Biola, sviluppare le storie o comunque adattare i disegni, non so, lo sviluppo della storia man mano che si va avanti. Beh, comunque ci siamo iniziati su un pubblico diciamo un po' più giovani, donani, bambini, quindi comunque in generale lo stile è migliorato in un significato più chiaro da artista a artista, credo. Comunque dando una missione diversa in base allo stile dell'autore, insomma, del disegnatore. quindi sì, però si fa sempre una crescita continua. Ok, diciamo la realizzazione del fumetto come avviene? Cioè avete una storia per cui la sviluppa e voi la disegnate o insieme cercate di creare le scene e cercate di sviluppare la storia appunto partendo da un'idea comune però? Allora, che ha delle idee favolose e poi dopo insieme comunque parlando e si è sempre aperti al dialogo per fare un prodotto che comunque vada bene che sia il più adatto possibile che colpisca di più dei lettori comunque Mirko confermi questa Noi infatti non avendo fatto il tuo fermo ecco perché non avendo fatto l'Accademia del Comics e quindi non avendo una forte base appunto di sceneggiatura io cerco di approfittare il più possibile dell'abilità ecco di Viola e di Federico che sanno appunto indirizzare le mie idee pazze ecco riguardante la storia di Jack e Matrix indirizzarle in maniera corretta e poi imparo costantemente anche da loro perfetto ma quando realizzate un fumetto che ha come punto centrale un sito un reperto un luogo lo studio del manufatto la riproduzione la diciamo anche la vorrei dire ricostruzione filologica ma non voglio usare questo termine ovviamente comunque l'affidabilità dei vostri disegni è una cosa a cui tenete? Io è indissolubile deve essere di fatto il FEDEL per quanto riguarda il reperto chiave di quel sito deve essere uguale quindi gran parte c'è una prima parte di fatto in biblioteca raccogliere la documentazione di preparare una sorta di report che viene dato al disegnatore in base a quello si vanno a realizzare le diverse illustrazioni che comporranno il fumetto questo è improcedibile appunto per lo scopo di questo prodotto anche perché se mettiamo un vaso neolitico in un periodo medievale è meglio che mi sparo ecco quello è ovvio però faccio una domanda a Viola quanto è diciamo pignolo Mirko sulla sulla vostra riproduzione dei reperti cioè tu prendi un reperto lo cerchi di disegnarlo quante volte Mirko dice ah no però quel punto va fatto in media diverse perché non è corretto beh allora sì è molto pignolo però è anche molto buono cioè ci tratta bene come disegnatori assolutamente quindi ci fa correggere le cose ma mi vale sempre la pena e ancora quando abbiamo identificato più volte tipo Bati o Ampro e Stane io non capivo la differenza però lui la sapeva ed era giusto così ovviamente impara anche e Viola siamo solo all'inizio ecco per questo è un avvertimento bene 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 intanto vedete che Viola sta disegnando chi è Viola parlaci di questi primi bots è il di di chiamati come mix quindi Jack lui è archeologo e ovviamente è una figura proprio omnipresente alla fine dei conti è una persona appunto può fare le sue avventure con il cane si amate ok ok quindi quindi poi leggete il fumetto compratelo ma non sono i soli due protagonisti delle vostre storie non ci sono soltanto loro due allora allora c'è Jack il protagonista Matrix poi c'è il fratello il fratello più piccolo Sam che ha una spiccata come si suol dire passione però per le mummie quindi molto probabilmente da grande intraprenderà la carriera dell'egitologia ecco questo è uno dei miei grandi pallini più avanti lo faremo diventare un egitologo ecco lo farete crescere e poi facciamo crescere male ecco no dai no no dai scherzo ecco per tutti gli egitologi se Mattia Mancini alias Jed Medo ci sta seguendo continuano a volerti bene li voglio bene anch'io anche se non lo conosco dire mentre l'antagonista appunto di di Jack è Oblius sapremo un po' di più di lui nel nel fumetto che spero venga pubblicato all'inizio del prossimo anno con la questione covid appunto gran parte delle nostre uscite si sono si sono interrotte quindi non vi anticipo niente non vi parlo di lui in particolare però così hanno uno sviluppo cioè non sono dei personaggi statici anche perché come mi hai detto ogni storia è cercata di collegare all'altra e quindi vive un'evoluzione di questi personaggi credo sia anche questo il bello no questo questo è l'aspetto cruciale ecco della serie Jack & Matrix Oblius è un ladro come si è capito appunto dai primi fumetti e viaggia da sito in sito o da località in località a recuperare dei reperti cosiddetti reperti reperti chiavi che serviranno a qualcosa che non vi anticipo sia Jack sia Oblius hanno una caratteristica in comune entrambi hanno un tatuaggio e non vi spiego il perché entrambi hanno il tatuaggio ecco ma farà parte della storia che si andrà a sviluppare nei prossimi numeri un sacco di anticipazioni cioè questa live si fa sempre più calda ovviamente ecco ecco diciamo avevo scritto un'altra domanda però hai quasi risposto però ne puoi comunque rispondere un'altra all'inizio hai detto che avete quasi scusamente 17 pubblicazioni 14 non mi ricordo sì circa 17 ecco 17 e poi beh diciamo qualcosa altro Boldin Pentole mi hai detto di sì però come nascono le storie come ci arrivate in quei siti allora nascono molto spesso perché sono dalle commissioni che ci vengono chiesti ecco ok quindi c'è il terzo in base a quello noi cerchiamo di documentarci e di adattare la storia di Jack and Matrix in base alle commissioni che ci vengono proposte per la realizzazione del fumetto Jack and Matrix e molto spesso ci danno appunto l'opportunità di creare il ponte tra un numero e l'altro ok e fino adesso in quali siti vi siete mossi più o meno in quale zone allora tra i siti italiani siamo Friuli e Veneto ok e poi abbiamo creato i classici ponti con l'estero grazie alle mie diverse campagne di scavo condotte all'estero sia in Georgia che in Iraq una grande opportunità che ho avuto appunto per poter sviluppare il tema Jack and Matrix ok ci arriveremo intanto vediamo che il nostro Jack è sempre più definito ecco una domanda che faccio a Viola il tuo stile è cambiato disegnando Jack and Matrix si è adattato al mondo archeologico o hai fatto adattare il mondo archeologico al tuo stile allora bella domanda in realtà io ho sempre disegnato uno stile più comico grossesco però appunto lavorare per Jack and Matrix mi ha dato la possibilità di sperimentare di indirizzarmi più verso il stile comico comunque è stata sicuramente una sfida perché comunque è sempre difficile di staccarsi dal tuo stile però è stata anche comunque un'evoluzione di conseguenza diciamo che mi sono adattata al grande perfetto e anche per voi disegnatori vi è un po' di studio prima di realizzare un fumetto quindi oltre al alle indicazioni di vita a Mirko anche voi mi mettete lì un po' a studiare come so il sito il reperto le ambientazioni beh sì comunque bisogna prendere tanti reperti soprattutto quando si tratta di di luoghi o di comunque storie che sono tratti dalla realtà in generale bisogna avere un bel bagagliaio culturale quindi informarci per un attimo cosa devi disegnare cioè se conosci quello che devi insegnare sicuramente viene molto molto meglio e il risultato più professionale è quello poco ma sicuro ok ok Cimico riguardo la diciamo la connessione tra i tra i paesi e quindi anche adattarsi ad un committente lo avete sempre fatto tranne il numero zero giusto? Tranne il numero zero tranne il numero zero ecco il numero zero parla di un sito neolitico che è vicino a casa mia e quindi volevo appunto valorizzarmi questo sito soprattutto con le diverse attività che svolgiamo come associazione culturale e quindi è stato il nostro banco di prove il nostro numero zero ecco parliamo un po' dell'associazione Icarus giusto che è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata nel 2010 se mi sono informato e che ha dato vita diciamo a questo fumetto ormai il fumetto è l'attività principale dell'associazione o è qualcosa di collaterale? allora diciamo che Jack & Matrix è qualcosa di collaterale è nato appunto dall'associazione Icarus ma adesso sta camminando autonomamente con le sue gambe ecco ovviamente nelle attività didattiche che facciamo a scuola portiamo il fumetto cerchiamo anche di fare appassionare anche tramite dei laboratori di fumetto appunto i giovani questo ve lo dico come anticipazione ecco l'anno scorso abbiamo svolto un percorso didattico concordia sagittaria che ci ha portato a realizzare con l'associazione Icarus la guida fumetto appunto di concordia ed è stato un buon modo per creare una sorta tra archeologia storia appunto e fumetto perfetto però questa guida l'avete realizzata voi invece mi parlavi di dell'attività anche di disegno con i ragazzi di scuola del fumetto non so bene come metterla sì 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 con questa guida fumetto i disegni che compongono appunto la guida sono stati realizzati dai ragazzi durante i singoli incontri ecco questi singoli incontri il nostro insegnante è stato Federico ecco che ben ha insegnato i rudimenti base appunto del fumetto negli incontri che abbiamo fatto a scuola ok allora scusa Viola che cosa aspetti a insegnare anche tu ai ragazzi guarda è molto probabile che tutto va bene che potrò insegnare anche io qualcosa a Luca Comix ora però è ancora tutto quanto voglio dire insieme grazie a Mirko da mente però per il resto questo è un'attività a un po' intuire sul tutto ok speriamo sempre per la questione Covid ok che ci pone qualche freno anche per quanto riguarda questo aspetto a cui ci tengo particolarmente ok un attimo che ho avuto un attimo di perdita di connessione però ci sono che vi sento erano rimasti a Luca a Luca Comix se non sbaglio si 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 mi dicevi allora no ti dicevo salvo appunto per quanto riguarda la questione Comix la questione Covid ecco dovremmo svolgere un laboratorio didattico a fumetti presso un museo appunto di Luca che non vi dico quale sempre appunto per non rubare appunto l'anticipazione allora approfittiamo per chiedere a lasciarti se avete domande per Mirko e Viola Mirko non vi risponderà perché stasera proprio anticipa tutto ma non poi non dice nulla quindi non fate domande troppo spinose c'è ragione ecco fatti non si può non si può sbilanciare non si può sbilanciare e ho visto che oltre al Jack and Matrix oltre a diciamo la scuola il fumetto comunque dei laboratori avete realizzato anche dei corti animati di cui parleremo di questo vi chiederò nello specifico Jack and Matrix potrebbe diventare una vera e propria serie animata magari magari è quello che mi è uno dei miei sogni nel cassetto un sogno che spero prima o poi si possa si possa realizzare ho già avuto l'opportuna appunto di realizzare questi due corti e sono più che contento ecco i due corti sono The Sound of That Beat e L'Occhio della Storia giusto? sì il primo parla delle missioni archeologiche italiane in Georgia è stato realizzato grazie appunto alla sovvenzione e finanziamento dell'ambasciata italiana in Georgia mentre The Sound of That Beat che è uscito a gennaio rientra all'interno del progetto europeo EDU il cui capofila appunto è l'Università di Bologna riguarda appunto l'Iraq e la valorizzazione del contesto storico archeologico ok in questi casi ovviamente ha fatto tantissimo la tua esperienza all'estero sì quello sì quello sicuramente ecco l'informazione com'è? anche lì è riempito i disegnatori di informazioni diciamo che non ho riempito l'Oro di informazione ho riempito i nodellisti grafici ecco di informazione diciamo per quanto riguarda il cartone l'abbiamo seguito un pochettino strade differenti faccio l'esempio per quanto riguarda The Sound of the Beat Federico Gardin mi ha preparato appunto i modelli dei personaggi che dopo ho mandato ai miei fidati modellatori che hanno creato in base a quanto gli dicevo e allo storyboard il cartone animato ok ok e le due diciamo i due corti non so ci vuoi parlare proprio di cosa parlano qual è il loro tema e soprattutto invitiamo chi ci sta seguendo a vederli allora dell'occhio della storia è una sorta di sto mi chiedendo il recupero appunto di questa maschera votiva che abbiamo realmente rinvenuto in Georgia nel sito di Nazargora e del suo passaggio dallo scavo al museo una sorta di fatto così di viaggio o di triplo mentale ecco di Jack si passa ad illustrare tra le due parti i diversi siti archeologici che hanno come avevano come protagonista appunto le missioni italiane quali il sito diretto dal professor Terbini poi adesso mi ricordo dell'università di Firenze ecco per quanto riguarda la facoltà di paleontologia e poi appunto il sito cui preferisco di più perché ci ho scavato anche due anni due o tre anni ecco di Nazargora in Georgia diretto dall'università coordinato all'università Ca' Foscari di Venezia questo è l'occhio della storia mentre il suono di quel battito è un pochettino più strutturato anche una per Atar design un pochettino più moderno ecco più piacevole all'occhio in quel caso parla di un battito ovvero sia della necessità di avvicinarsi alla storia appunto del proprio territorio e per sapere appunto che in Iraq il museo nazionale è stato aperto da poco quindi un corto del genere ha lo scopo appunto di portare i bambini più piccoli al museo di far conoscere il museo la sua storia e questa conoscenza di fatto è una sorta di battito che da nel lento diventa sempre appunto più veloce e costante ok ok ovviamente scontate questa domanda ma è stato tradotto il fumetto diciamo dall'italiano allora il corto il corto l'occhio della storia è tradotto in sottotitoli in sottotitoli in georgiano in italiano mentre quello iracheno ha sottotitoli in arabo in italiano con un doppiaggio in inglese ok e comunque ho visto però sul vostro sul vostro sito che anche i vostri fumetti hanno delle traduzioni non ci sono soltanto fumetti quindi avete avuto un successo allora abbiamo allora per quanto riguarda il progetto edu oltre il cartone animato ci hanno anche commissionato una serie a fumetti e da lì che poi è anche partita il cartone animato la serie di fumetti si chiama la strada di bagdad un progetto a cui ci tengo molto come tutti quanti ma questo particolarmente perché riguarda un'area del del mondo che ha bisogno di fatto secondo me di una spinta in più quello è stato tradotto anche in arabo mentre i fumetti georgiani hanno sempre la tripla traduzione georgiano italiano e inglese è un modo per far conoscere anche in Italia un po' della cultura georgiana perfetto e tra l'altro questi non so io non solo c'è della storia ma The Sound of Death Beat vi ha portato anche dei riconoscimenti o comunque delle soddisfazioni perché ha partecipato e sta partecipando di corso di gara di rassegna anzi per esempio a Lico Di Obeo di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata oppure a Rovereto quindi è una grandissima soddisfazione grandissima soddisfazione soltanto esserci per me è una cosa indescrivibile ecco ok com'è stato l'ingresso nel mondo dei cineasti nel mondo dei cineasti ma strano ecco non so descrivertelo ecco sono solo contento e gran parte appunto di questo successo di questi raggiungimenti lo devo ai disegnatori ma anche alla mia ragazza che mi continua e mi sprona ad andare avanti perfetto dietro un grande Mirko c'è sempre una grande ragazza hai capito hai capito ok allora mi manca la barba a Jack ma credo così la butto lì che Jack sia semplicemente la trasposizione a fumetti di Mirko che fa quello che Mirko non ha mai fatto però vedo comunque quelle cose un po' d'avventura che a Mirko piacerebbe fare perché ne pensi Viola beh sì sicuramente lo spirito è il suo anche perché è stato liberato da lui e si vede la mano dell'ideatore l'idea soprattutto c'è anche un matrix nella vita reale diciamo sì sì lui è molto è sempre super positivo ottimista e a volte soprattutto lui che ci sprona è davvero un angelo tutto ottimista davvero è una donna dopo dopo ti pago ecco per questa grazie mille grazie mille ecco però io mi vedo più come il cane ecco come matrix che è l'unico cane che stava stratigraficamente quindi questa è fenomenale ecco delle volte mi chiedono ma matrix ma intendi il film no non è mio ecco anche lui forse saprebbe fare qualcosa con il pensiero ecco col pensiero quello è sicuro una deriva uno spin off dei vostri fumetti pensaci potrebbe anche essere secondo me un fumetto ci starebbe su come matrix è stato modificato anche logicamente quello ci potrebbe stare ok ok e invece la la parte di di sem è un diciamo semplicemente un espediente oppure è nato da qualcosa reale cioè ti sei diciamo affrontato i ragazzi che ti facevano delle domande e lì hai capito che forse il fumetto anche in quel caso sarebbe stata una strada giusta tanti piccoli sem ecco allora tu intendi la presenza di sem all'interno del fumetto allora è un espediente ecco diciamo l'espediente ma anche un rapporto che si potrebbe creare tra due fratelli che magari che magari non c'è e quindi vedo di rappresentarlo sotto forma di fumetto diciamo che per Sam se le cose andranno come stanno andando avrò in serbo anche per lui qualcosa come ti ho detto prima di importante però adesso dovrà assorbirsi solamente le chiacchiere di Jack ok ok allora intanto abbiamo la prima domanda della chat che in realtà già si era animata all'inizio puntata ma non l'avete visto perché finalmente Twitch ha attivato le nostre prime emoticon che in realtà siamo noi a forma di emoticon niente di particolare quindi ci sono sparati un po' di emoticon adesso la prima domanda invece che per Viola che prova devi elaborare da non archeologa perché credo sia fatta un po' pensando che tu fossi un archeologo allora visto che usici una tavoletta grafica per il disegno voleva capire un po' il tuo processo creativo cioè prendi degli schizzi disegnativi sul campo quindi su delle bozze in questo caso che ti dà Mirko e poi le relabori in post-produzione oppure prendi le informazioni diciamo che ti dà e poi le relabori in una sorta di ricordo o comunque mettendoci molto del tuo allora sicuramente ogni tavola di Jack and Madness Comics in generale è studiata cioè comunque ci sono dei referenti ci sta soprattutto all'ambientazione che essendo un'ambientazione appunto storica tipo siti archeologici la purtroppo cioè per fortuna è purtroppo dal punto di vista del disegnatore in quanto non è proprio diciamo facile dover fare una cosa che è molto collegata perché le persone potrebbero contestare delle differenze potrebbero notarle potrebbe non sembrare verosimile quindi prima si studia quelle che sono le ambientazioni le cose che devono somigliare alla realtà e poi dopo si può andare di fantasia si va soprattutto di fantasia per quanto riguarda magari i personaggi che si può modificare di più e comunque tutto quanto un fatto di interpretazione come in cui si è letta la vignetta che scopo la vignetta fare i fumetti in generale comunque è comunicare di conseguenza dipende tutto quanto dallo scopo quindi se ne parla prima come il proprio sceneggiatore in questo caso Mirko che ci sopporta e sopporta ho detto esatto e niente in generale per il resto poi è tutta costruzione ok ok sull'acciamo costruzione credo un po' meno per per i disegnatori però almeno per Mirko oltre lo studio anche la creazione del fumetto nel momento in cui viene pubblicato ti viene ormai in dubbio di non aver sbagliato qualcosa però senti la responsabilità di comunicare qualcosa e dire ma forse l'ho fatto nella maniera giusta forse poteva essere un po' più comprensibile oppure un po' più tecnico o credo non so forse lo sei sei sempre certo del risultato che esce no non sono mai certo del risultato che esce vorrei averlo fatto sempre potevo farlo così potevo farlo in un modo diverso e se quell'anfora è fatta in quel modo lì è giusta e se si accorgono di quella cosa lì sono finito quindi ci sono sempre tanti dubbi alla fine ma come ti ho detto i destinatari ultimi sono per lo più i bambini ecco e se arriva l'oro il fumetto sono più che contento e anche delle licenze creative anche se non ci dovrebbero essere me le prendo lo stesso esatto esatto però dato che diciamo spesso lavorate su commissione dovete rendere conto a qualcuno o vi lasciano abbastanza liberi ovviamente ovviamente devo rendere conto qualcuno lo storico prima di passare alla fase di esecuzione c'è il via libera da parte della commissione quindi ci sono c'è una parte di preparazione abbastanza abbastanza forte ecco quindi incontri riunioni modifiche così si può fare in questo modo oppure l'altra settimana io avevo fatto i testi in una maniera mi hanno chiesto di cambiare e farli in un'altra ecco e quindi così è ecco di fatto lavorando su commissione ovviamente quanto dura più o meno la gestazione di una pubblicazione ecco di una storia dipende in base alle tempistiche da parte della commissione di chi ci commissiona appunto il progetto ma le tempistiche giuste sarebbero più o meno attorno ai quattro mesi per dare il tempo di accumulare materiale creare lo storyboard e non assillare i disegnatori né realizzare appunto le tavole il più velocemente possibile ecco ok ok beh però tu non assili i disegnatori però c'è c'è un committente che assillano te ovviamente così si fa ecco ok ok va bene anzi continua c'è qualche qualcuno ci sta seguendo dei committenti di Mirko e di Viola continuate a farlo scrivetegli anche a questo se volete no a fortuna non mi scrivono questo invece ho visto sulla vostra pagina Instagram alcune piccolissime vignette di Jack and Matrix mini archeologi non distruggere le mie bellissime bisogni e le mie speranze diventerà una serie stabile spero 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 ecco lì devo fare i complimenti a Federico che ho avuto un tocco di genio ecco a proporre appunto questo questo progetto e quindi spero appunto di poter sviluppare qualcosa di seriale riguardante anche ai mini mini jack e mini matrix ecco per quanto rinchiava molto ironica per esempio la questione social ovviamente comprendendo il lavoro che c'è anche dietro la scrittura le realizzazioni di ogni tavola avete mai pensato di creare una serie una serie completamente pubblica dedicata al mondo dei social quindi pensata per i social e creata realizzata per un pubblico più ampio quindi su Instagram o facebook o lo usate semplicemente come vetrina ecco per adesso usiamo soprattutto come vetrina ecco perché io ritengo e questo mi preme ecco sottolineare che per lavorare bene ci deve essere anche un supporto di carattere economico per i disegnatori che sono alla base di questo progetto quando ci sarà ci sarà la disponibilità ecco si potrà pensare appunto di sviluppare anche qualcosa per i social per adesso mi baso soprattutto cerco di gestirla diciamo come una vetrina ecco per il corretto in questo momento intanto vediamo che il design di viola sta prendendo colore anzi ha già preso più colori mi sono soltanto accorto appena c'è solo ora che ha un microfono insieme alle cuffie però vabbè hai visto anche lui in collegamento infatti c'era la sorpresa a fine live spunterà invece sempre sui sui social sui vostri sui vostri vitrine ho visto questa nuova non so se è una serie questa è una domanda che cos'è le 21 illustrazioni 21 regioni 21 buoni propositi allora questo è un progetto che è nato durante il lockdown in cui ho coinvolto viola in questa food invention di vignette di tavole di illustrazioni che riguardava appunto le nostre regioni italiane ogni regione avevo collegato appunto un buon proposito che poteva essere auspicio dopo il lockdown è un progetto cui ho coinvolto viola e viola si è dimostrato subito favorevole ti sei messa subito a lavoro è stato divertentissimo praticamente consisteva in fare un'illustrazione al giorno con un buon proposito quindi a parte che è stato utile durante la quarantena quindi non ho mai allenato esatto e comunque è stata una bella una bella esperienza una sfida continua praticamente questi buoni propositi non siano soltanto 21 che possono continuare scusami eh eh no anche infatti è un continuo buon proposito allora io so avere una domanda che diciamo c'entra relativamente con Jack and Matrix anzi più una vostra considerazione prima di andare avanti è stata mia colpa ho dimenticato qualche cosa su Jack and Matrix qualcosa che hanno detto e di cui volete parlare no 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 hai detto tutto perfetto allora una domanda che faccio a tutti e due quindi mi aspetto due risposte possibilmente diverse così abbiamo una bella discussione scherzo ovviamente cosa ne pensate della serie fumetti nei musei il progetto fumetti nei musei che cosa pensano fumetti nei musei ci vorrei partecipare pure io ecco sono molto contento di un'iniziativa del genere che dà l'opportunità fumettisti e disegnatori ecco di valorizzare una parte del nostro patrimonio culturale storico archeologico italiano perché non so se hai seguito durante il lockdown forse diciamo li acquistavi anche normalmente ma poi li avevano messi a un certo punto tutti settimanalmente li avevano condivisi in maniera gratuita e lì hanno fatto il boom perché io mi sono accorto che prima di questa loro condizione gratuita avevano sì un grande seguito però dopo adesso infatti si vede anche benissimo sulla risposta che hanno sui loro canali hanno raggiunto molte più persone grazie a questo se si può dire espediente di condividere in rete loro che se lo possono permettere non è facile è facile te hai praticato qualcosa? beh direi che è assolutamente da fare sarebbe bello parteciparvi sarebbe bello mettersi anche non in competizione però in confronto con altri disegnatori artisti e sarebbe davvero bello partecipare ok hai un luogo un museo o un reperto che ti piacerebbe su cui piacerebbe scrivere una storia Viola? allora beh innanzitutto credo che più che un reperto cioè in realtà sarebbe bello scrivere una storia su mio stesso paese del canale Monterano che sta vicino a Roma e ha tanta storia c'è la comunità che è stata abbandonata è davvero bello comunque ha molta storia arretrata questo sì Mirko cosa aspetti? contatti il sindaco e rilassimo insieme? ah beh c'è un po' e appunto ancora stiamo cercando cioè ancora gli sto cercando di mettermi in contatto con le persone giuste per convincerle anche perché qua c'è molta cultura insomma c'è molto senso di appartenenza quindi vedo che potrebbe andare molto bene soprattutto tra i paesi ma sì esatto Mirko tu poi agganci te disegni fate la storia noi ve la lanciamo e mi sembra il cerchio perfetto hai visto? vedi giusto giusto Mirko c'è un disegnatore che ti piacerebbe disegnasse Jack e Matrix? bene sarei molto curioso ecco di vederlo alle prese con Jack e Matrix anche se è una cosa abbastanza fantascientifica ecco Roberto Recchioni ok io proprio dall'altra parte ecco ma mi piacerebbe appunto vederlo disegnare Jack e Matrix ecco possiamo si può sempre provare mandare una mail non costa niente quello sì non costa niente poi costa forse dopo ma intanto la mail non costa infatti forse anche un insulto ti arriva dietro ma comunque quello non costa mai ecco bene bene prima di intanto di avviarci questa chiusura vedo che il fumetto è a buon punto vi volevo intanto fare una domanda più generale sul fumetto e sul mondo della cultura mi piacerebbe sentire una vostra considerazione non dico profonda però sul rapporto che c'è che c'è stato e le vostre prospettive c'è quello che vedete in futuro sia in generale quindi in Italia tra fumetti musei in mondo archeologico o culturale e sia per quanto riguarda Jack e Matrix da tutti e due punti di vista quindi sia da parte della disegnatrice che da produttore ecco da parte di Mirko allora per quanto riguarda il progetto Jack e Matrix la competizione è tanta ecco perché stanno già venendo fuori appunto prodotti come anche frumetti nei musei dà l'opportunità di sviluppare progetti riguardanti un sito archeologico come ho detto prima un museo un po' come alla base di fatto di Jack e Matrix ma credo che puntando appunto sulla storia e sullo sviluppo dei personaggi di riuscire a dare una sensazione mia magari forse mi sbaglio al colpo vincente al progetto per poter dargli quel quid in più che necessita ciò che la competizione come ho detto prima è tanta che di disegni ancora ne dovremmo macinare ma sono fiducioso sono molto fiducioso perché ho un team forte anch'io se devo dare una mia risposta penso che comunque l'idea a me ha convinto subito quindi ritornando alla citazione di prima ti convinci davvero basta poco una persona alla volta per raggiungere altri migliortati quindi siamo iniziati abbiamo iniziato con pochi il progetto è arrabbiato quando ho iniziato a lavorarci anch'io e come io ci sto credendo credo che possa essere alla portata di tutti ok ok intanto invito se c'è qualcuno in certo volesse fare domande questo è il momento giusto prima di salutarci e vorrei fare una domanda invece a Mirko in quanto archeologo oltre alla cerchia di Jack and Matrix o diciamo le fumette nei mosei che non è prettamente archeologica cioè l'archeologia la becca ovviamente ma non è solo su quello come vedi il mondo del fumetto in archeologia ti sembra di vivere diciamo non in una bolla però diciamo beh lo faccio io siamo in pochi saremo in tre quattro c'è ancora tanta strada da fare o ti sembra che ci sia già un solco ben tracciato c'è ancora tanta strada appunto da da fare quello sicuramente stanno venendo fuori anche nuovi disegnatori che occupano affrontano questo 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 argomento diciamo che quello che si deve fare a mio modesto parere di cercare di utilizzare un linguaggio che si trovi a metà strada tra archeologia e storia appunto è il commerciale ok per rendere il tutto il più fruibile possibile perché anche se si comincia a mettere troppi dati storici all'interno di un fumetto diventasse abbastanza pesante ecco è importante pochi concetti pochi ma buoni da riuscire come dico io a instillare di fatto al lettore questa conoscenza ci sta ci sta anche che il diciamo un disegno fatto bene come quello di viola o dei vostri diciamo ovviamente e dei contenuti ben proposti diciamo portino anche a scoprire altri tipi di altri tipi di fometti appresiti c'è un fumetto tira l'altro ecco se io vedo che un prodotto è ben fatto ci metto niente vado in un museo vedo che per esempio che se c'è la collana fa mettere i musei allora lo compro poi vado nel museo di un paesino e vedo che una stazione locale ne ha fatto uno siccome so che esiste questo mondo lo compro e quindi è un ciclo che si rigenera quello c'è quello c'è bene 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 allora io non vorrei mettere fretta a viola però tranquillo tanto mi dice in palato non potrei non me ne ho rivolto se no se vuoi dare le ultime per l'altro puoi farlo intanto ho un diciamo allora ho un il nostro gioco finale prima di commentare ovviamente il disegno che è un gioco di associazioni facile diciamo che più per Mirko però se viola ha in mente un sito che ha disegnato una storia o anche semplicemente tua conoscenza personale ovviamente puoi rispondere se no passi allora io vi dirò dei fumettisti è un fumetto e Mirko ovviamente poi viola anche potete associarlo ad un sito un museo un reperto un luogo comunque legato al mondo della cultura ok ci provo ok allora il primo per questo te l'ho chiesto primo Mirko te lo conoscevi anche se lo conoscete poco probabilmente è il fumetto e lo stile di Sterro Today che abbiamo avuto ospite qui che avrete visto sui è un sito sì è un sito la prima cosa che ti viene in mente nel mondo culturale cioè un sito un luogo un museo un sito un sito un luogo museo eh c'è qua solo sulla punta della lingua io lo collugherei a un sito neolitico ok c'è un motivo così è venuto questo nonostante nonostante che lo stimo ecco lo stimo non mi piace molto tra l'altro è un medievista quindi diciamo che a buche di palo ci sono tra medio e pre-storie ecco eh noi fate ecco siamo qui il secondo è Milo Manara Milo Manara lo collogherei un vai Viola eh ci sta pensando ci sta pensando vediamo ma vabbè passo passo Milo Manara io lo conosco per ben altro per le cedere di nuve io lo collagherei un buio rinascimentale rinascimento ah intanto scusate ma devo ringraziare Alta F4 Podcast che ci segue anche Lorenzo Megattini che ci segue e che era il ragazzo che ti aveva fatto la domanda e poi ti ha ringraziato ecco non ho più risposto ah sì non posso vederlo ah ecco Iskander Khan con Milo Manara associa nella nostra chat le atlete in bichini di Piazza Ermerina ah ok ecco ottimo ci stava un altro è le ortolani le ortolani le ortolani non lo so lo succederei a Roma ok che lo devono conoscere tutti quanti perfetto comunque Plot Twist Sterro Today quindi Danilo ci sta seguendo e vi saluta e in questo momento sta scavando proprio in un sito neolitico quindi ci hai visto giustissimo ah perfetto ho quei idee allora gli ultimi due il primo è Alamur ok Alamur è difficile da ricollegarlo ad un sito io lo metterei uno sito un sito lontano perché è lontano da un pezzo ecco un sito lontanissimo ok lo metterei in Mongolia ah in Mongolia ok oh mio Dio la Mongolia deliziale allora hai qualche altro luogo nel mondo in cui volerlo piazzare o no? ma sono d'accordo con Mirko io la Mongolia è un sito ufficiale adesso questo è un po' difficile perché non potete associarlo ovviamente al contesto storico a cui fanno riferimento sono Asterix e Obelix dovete prenderli e spostarli in un'altra parte magari a posto di Jack and Matrix potrebbe ecco Asterix e Obelix li sposterei ad Ud'Arzo ecco ok perché il il nome appunto dal del disegnatore Ud'Arzo ecco secondo una leggenda la storia è proprio legato di fatto alla città a città a città a città a città a città a città ok va bene perfetto siete stati brevissimi avete risposto su te due grazie e poi soprattutto molto rapidamente ecco è questo quello che ci piace bene credo che il segno sia finito viola no più o meno è bellissimo e tutto quello che Mirko mi ha detto nella pre-live quando ti stavi ancora connettendoti cioè che sei bravissima che punta su di te che molto orgoglioso cioè non posso che essere d'accordo meno male a me può piacere spero che vi siate trovati a vostro agio in questa nostra chiacchierata e spero di aver fatto quello che c'era da toccare quando ci rivediamo allora siamo un po' impegnati per questo mese anche per il prossimo però basta sentire i nostri autori e ci organizziamo ecco perfetto allora saluto gli autori ecco e Andrea ciao Andrea e niente io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguendo i ragazzi che hanno scritto in chat vi ricordo che potete seguire il nostro canale ma anche abbonarvi per sostenerci l'abbonamento al canale è gratuito se già siete in possesso di un account Amazon Prime e potrete sbloccare alcune piccole features come le nostre emoticon e altre chicche che stiamo preparando io ringrazio infinitamente ancora i ragazzi di Jack and Matrix ma Viola e Mirko grazie grazie a voi e salutiamo Federico che era impegnatissimo ciao Federico e ringrazio anche Nicola che ha curato la regia di questa puntata perché io non ne sarei assolutamente in grado però il grazie è più grande se Mirko me lo permette va Viola che ci ha regalato questo bellissimo disegno grazie esatto quello c'è bene leggete Jack e Matrix ecco leggete Jack e Matrix questo si può acquistare online giusto? esattamente quello c'è nel numero 0 c'è ok perfetto vi condivideremo grazie bene buona serata a tutti ciao buona serata ciao 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 ciao